Quali sono i sintomi dell'ipotermia? L'ipotermia è una condizione in cui la temperatura corporea di una persona scende al di sotto di un livello di sicurezza e il corpo non è in grado di tornare alla sua temperatura normale senza assistenza. L'ipotermia può portare a compromissione cerebrale morte se i sintomi non vengono riconosciuti e trattati immediatamente. I sintomi iniziali comuni di ipotermia possono includere pelle fredda, brividi, problemi di equilibrio e mancanza di giudizio. I sintomi più gravi di ipotermia sono una frequenza cardiaca drasticamente rallentata, respiro superficiale, disorientamento e persino perdita di coscienza o morte. L'attenzione medica deve essere cercata immediatamente per le persone che presentano sintomi di ipotermia. La temperatura corporea normale di un individuo è solitamente nell'intervallo di 96 a 100 gradi Fahrenheit, circa 36 a 38 gradi Celsius. L'ipotermia lieve o precoce può insorgere quando la temperatura corporea scende di uno o due gradi. I primi sintomi dell'ipotermia comprendono la pelle d'oca, l'intorpidimento delle dita delle mani e dei piedi e il volto e un leggero brivido. Una persona può iniziare a perdere il proprio equilibrio, sperimentare una visione offuscata e mostrare scarsa capacità di giudizio e ragionamento. Se la temperatura corporea non viene ripristinata immediatamente, le persone possono iniziare a manifestare sintomi più gravi. Un individuo con ipotermia moderata può perdere la capacità di alzarsi in piedi, provare un significativo intorpidimento delle proprie membre e sentirsi molto confuso, debole e assonnato. Lui o lei potrebbe smettere di rispondere coerentemente alle domande e non fare alcun tentativo di articolare le sue parole. Le labbra, le orecchie e il naso dell'individuo iniziano spesso a diventare blu mentre l'ipotermia continua a insinuarsi. Potrebbe sperimentare un polso pericolosamente basso, rigidità muscolare e respiro lento, superficiale e inconsistente. L'ipotermia severa può essere pericolosa per la vita se non viene trattata immediatamente. Mentre la temperatura del corpo continua a precipitare, i brividi possono fermarsi e l'individuo può perdere completamente conoscenza. Il suo corpo potrebbe essere freddo al tatto e assumere un colore blu pallido. La respirazione è estremamente superficiale e deve essere attentamente monitorata per assicurarsi che non si fermi completamente. Nell'ipotermia molto grave o prolungata, gli organi interni dell'individuo, compreso e il cuore, smettono di funzionare completamente. Finché i sintomi dell'ipotermia sono riconosciuti nel tempo, il primo soccorso e il trattamento medico di follow-up possono di solito prevenire gravi conseguenze. Un individuo deve essere rimosso dall'ambiente freddo, privo di vestiti bagnati o freddi e riscaldato con coperte, bevande calde e impacchi secchi. I medici e gli infermieri di terapia intensiva utilizzano fluidi endovenosi riscaldati e trattamenti di ossigeno caldi e umidi per ripristinare la temperatura corporea in soggetti con grave ipotermia.